Nella serata di ieri 10 ottobre la Polizia di Stato di Pavia ha provveduto la chiusura per 15 giorni di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito a Pavia. L'attività si inserisce nell'ambito dei serrati controlli pianificati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nelle serate di Movida, in particolare nei confronti di esercizi commerciali e relativi avventori del centro storico. Nel corso di uno di tali servizi, lo scorso 29 agosto, la titolare di un locale di Piazza Vittoria, più volte segnalato per la scarsa sensibilità verso la problematica dell'assunzione di alcolici da parte di minorenni, aveva consentito ad una dipendente, peraltro sua figlia, di somministrare una bevanda superalcolica ad una ragazza di soli 15 anni. Il personale della divisione Polizia Amministrativa della Questura, nel corso dell'immediata attività di accertamento, aveva riscontrato che il superalcolico era stato servito senza aver preventivamente verificato l'età anagrafica della giovane cliente, alla quale non era stato chiesto di esibire il documento di identità, così come previsto dalla normativa vigente. Gli ulteriori approfondimenti, proseguiti con la testimonianza diretta della minore e di altri giovani avventori del locale, hanno evidenziato una generale incapacità del gestore di adottare le necessarie cautele nei confronti dei minorenni per evitare da parte loro l'assunzione di alcolici. Il medesimo locale, peraltro, già nel mese di giugno 2017, in due distinte occasioni, era stato sanzionato dalla Polizia Locale per analoghi episodi nei confronti di giovani 17 anni ed anche in quella circostanza l'esercizio era stato chiuso per sette giorni. Nella notte anche altri locali di Piazza Vittoria, Via Vigentina e Via Pastrengo, oggetto di specifiche segnalazioni da parte di cittadini, sono stati interessati da controlli amministrativi finalizzati a verificare altresì il rispetto delle misure di distanziamento sociale ed il corretto uso delle mascherine da parte dei relativi avventori. Inoltre, tutte le forze di Polizia, con il supporto della Polizia Locale di Pavia, hanno presidiato le vie del centro, sensibilizzando i presenti a mantenere condotte rispettose della normativa anti-Covid, evitando schiamazzi nel rispetto del diritto al riposo dei residenti.